Casa base immobiliare Vennel, Torino, via Carcentino 25. Siamo in zona barriera di Milano in un contesto completamente riqualificato di loft del 2006. Questo è un bilivello, abbiamo ingresso con portablindate e videocitofono, sono circa 155 metri quadrati. Lì abbiamo un ripostiglio, ampia camera, il pavimento è un parquet, ampi finestroni. Di questo lato abbiaffacciamo su via Crescentino, di qua abbiamo la seconda camera parallela all'altra, leggermente più piccolina, bagno e lavanderia. E adesso saliamo su. Sopra abbiamo un bellissimo open space con cucina vista che affaccia sul terrazzo. Eccolo qua. Due porte finestre, guardate che belle, che luce. Quindi cucina vista, vi faccio vedere l'ultima parte dell'interno, con disimpegno. Il secondo bagno della zona notte. Ampia camera da letto, con cavi d'armadio. E andiamo subito fuori sul terrazzo. Guardate che luce. Eccoci qua. Questa è tutta la parte dell'esterno. L'interno cortile, quindi il contesto, è molto silenzioso. Per tutte le altre informazioni, www.casabaseimmobiliare.com a chiamato cor Fire place. O perchè è un'e 8 tutorial.